Quando ero piccino io correvo in bicicletta, avevo iniziato a 10 anni, da 10 anni in poi, fino a 18 anni ho corso in bicicletta. Però quando ero piccino io i nomi dei paesi accanto a Prato io li conoscevo mica, ma non li conoscevo. Io andavo in bicicletta ma i nomi, le frazioni io non le conoscevo. C'era Casale, Vergaio, Tobbiana, Tavola, Iolo, che ti posso dire? Tutti sti nomi qui, capito? Conoscevo Vergaio perché ci stava Benigni, ma tutti gli altri paesi, Tobbiana, Tavola, Casale, io non le conoscevo. Una domenica mattina, prima della partenza, mi si avvicina uno, mi fa, oh, un organizzatore di gare, mi fa, oh, ascolta, che vieni domenica a tavola? Io ero vicino, gli dice, se voglio, bisogna sentarmi i genitori, se vengono loro vengo anche io. Mi feci, ma che c'è da designare? E lui mi disse, come? Io vengo anche a tavola, però bisogna sentarmi i genitori, se vengono anche loro, se c'è posto anche per loro, si vengono tutte e tre, capito? E lui mi disse, ma che senso? Io, se tu vuoi, si vengono anche a tavola, io, a me mi va bene, un po' dopo venire i miei genitori e mi spiegarono la cosa, nulla, per capire la figura di merda che facevo già da bambino. Vabbè, arrivederci.